Ma no, ma qui ce ne sono già tre? Stai un po' più là, dai. Ti faccio che te? Fammi che la fuga ti faccio che te? Esatto. Non so se lo voglio. Ah, non sa se lo vuole. Quindi tu sei venuta solo per mangiarlo? No, per stare in compagnia. Sì, dico tutto così. Vediamo, vediamo. Vabbè, tieni questo messaggio. Prego, prego, prego. Allora, benissimo. Bene, bene, bene. Dunque, vediamo se ne abbiamo un altro. Numero 5. Number 5. Chi è la numero 5? Eccola qua, benissimo. Ciao carissima. Come ti chiami? Nadia. Nadia, da dove vieni? Da Maranello. Ma viene da Maranello, yes. Cosa fai di bello nella vita? Nulla. Non fa niente, niente. Benissimo. Come vorresti il tuo uomo ideale? Quello che è scappato adesso che era di fianco a me. Allora, vorrebbe un uomo come quello che era di fianco a lei, ma è scappato. Se fai scappare gli uomini, non gli dico un bel lavoro. Perché ha paura. Ha paura, dici. È scappato in bagno, è andato in bagno. E' scappato in bagno? Ragazzi, questa morde, è scappato l'uomo. Se lo sa. Chi ti conosce a quel livello? Non tutti. Esatto. Mica, tutti. Va bene. Guarda, ti consegno questo messaggio. Spero che veramente cambi la tua vita. Te lo ha già le farfalle nello stomaco. Ha già le farfalle nello stomaco, ragazzi. Noi pensavamo che vivi solo i cannelloni, invece. Cioè, io che ho già le farfalle. Fantastico. Bene, bene.